E' atteso il Ministro degli Affari Regionali Boccia, che cosa chiede al Ministro? Di continuare a mantenere gli impegni con i sindaci e con le autonomie. Consentitemi però di cominciare con un ringraziamento al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente De Caro e anche al Ministro Boccia, oltre a tutte le donne e gli uomini che ci hanno lavorato, perché nel decreto legge appena pubblicato all'articolo 17 c'è una norma importante per gli enti in predissesto, tra cui il Comune di Napoli. Questa è stata una lotta che ho condotto personalmente e che rappresenta un risultato frutto di quel rapporto corretto e franco tra la città di Napoli e il Governo. Subito per sgomberare qualsiasi equivoco non è il Salva Napoli. E' una norma importante che va nella direzione di non abbandonare quelli che maggiormente hanno bisogno, cioè i Comuni in predissesto e indissesto. Questo è stato anche frutto di interlocuzioni importanti che ho avuto nelle settimane scorse con vari esponenti di governo, tra cui il Ministro Boccia, che ovviamente saluterò e ringrazierò, al quale ho anche chiesto di porre fine alla contrazione dei poteri di ordinanza dei sindaci. Quindi con queste norme si riconquistano quegli spazi democratici che la pandemia sanitaria aveva sottratto. Quindi lo trovo di buon auspicio, c'è ancora tanto da fare, il denaro non è ancora arrivato e senza soldi non si cantano messe, però se con questo decreto si fa un passo in avanti probabilmente si può, se cominciamo a correre, anche provare a recuperare un po' di tempo perduto. Non per colpa nostra.